Querceto International Piano Festival Piano Festival Piano Festival La manifestazione International Piano Festival La settima edizione 2013 presenta come di consueto o in concomitanza uno spazio per le arti visive. Quest'anno in presentazione sono due artisti nella sala concerti il granaione Emanuele Cazzaniga che ha installato un'opera di design estremamente voluto dalla sua ispirazione artistica di reintegro di materiali usurati, ritrovati e riassemblati con un'elegante composizione spesso installativa e appunto di design particolarmente ricercato. Mentre qui nella sala espositiva di Accademia Libera presentiamo un'installazione di Carl Bommer ricontestualizzata proprio in occasione della manifestazione. Il titolo originario era lo studiolo Atelier, adesso è nella variazione del pianista dal tonico e comunque si muove sempre sulla inversione del significato fra realtà e immaginazione della realtà. Per cui per Carl Bommer si tratta della materializzazione fisica nelle coordinate spazio-temporali dell'idea dello studio Atelier e dell'opera d'arte prima ancora della sua esistenza. Per cui si crea una correlazione fra gli elementi sia elementi concreti che immaginarie. Questo è un po' l'intento. In questo caso col pianista dal tonico, quindi con l'azzeramento del colore, c'è un paradosso in più che è collegato appunto al tema della manifestazione che è dedicata al pianoforte e alla grande musica classica. Benvenuti a Queceto dove oggi parte la settima edizione dell'International Piano Festival, quest'anno con varie tappe. Una a Volterra sabato sera, una a Mazzolla domenica sera e poi va avanti con tre altre date, il 25 di luglio, il 28 di luglio e il primo di agosto qui nella sala Gran Aione a Queceto. Sala del castello della famiglia Cinore Lisci che ci ospita qui in questa splendida location nel borgo di Queceto. L'Accademia Libera opera qui a Queceto dall'anno 2000 e organizza un'ampia stagione di concerti, di mostre e di corsi seminari. Infatti in concomitanza con il piano festival abbiamo le master classes, con quest'anno le classi di chitarra, flauto e pianoforte ovviamente, come dice già il nome. I ragazzi suonano in tutto il paese per una decina di giorni alternando con i concerti in serata e magari se qualcuno voglia anche venire fuori programma, spesso la sera in piazza si esibiscono e fanno vedere il lavoro della giornata. Siamo con Paolo Francese, direttore artistico del piano festival e delle master class. Come nasce l'idea di questo festival? L'idea di questo festival è nata circa sette anni fa con l'organizzazione dell'Accademia Libera, che è appunto questa associazione che qui in Queceto si occupa della promozione di una serie di attività culturali, le più diverse e le più interessanti. All'epoca ero già direttore artistico di un piano festival analogo a Salerno, nella mia città, e la signora Ursula Fette, che è appunto la direttrice organizzativa di tutta questa macchina culturale che ha messo su ormai più di una decina di anni fa, mi chiese di riproporre una formula che fosse interessante dal punto di vista musicale e di riproporre un po' di musica di altissimo livello qui in Queceto, dove già erano presenti delle attività artistiche come arti figurative, mostre e quant'altro. Quindi portai con me, in buona sostanza, un progetto che avevo già realizzato e del quale conoscevo già la formula, in qualche modo l'esito presso il pubblico, presso l'audience. Essendo questo tra l'altro un posto, come avete potuto constatare, magico, sia per la collocazione in questo splendido paesaggio toscano, sia per le frequentazioni che questo posto garantisce, il pubblico di turisti è sostanzialmente sempre molto interessato e assetato di cultura. L'idea appunto di portare il festival nacque appunto da questa esigenza, evidentemente un luogo del genere, aveva per le sue caratteristiche precipue, e insieme al festival pensammo, tra l'altro, di portare qui anche degli studenti, dei giovani musicisti che potessero in qualche modo scambiare le loro informazioni, e ritrovarsi, confrontarsi con i grandi artisti che poi siamo riusciti, con grande fatica e grandi sacrifici, ma a portare qui a Querceto per delle esibizioni appunto concertistiche. Quindi abbiamo associato al festival, che è di suo una manifestazione prettamente appunto legata alla performance del momento, del concerto dal vivo, con un evento formativo di altissimo livello, di altissimo profilo, che è appunto quello delle masterclass e quindi l'incontro tra docenti di alto livello e studenti provenienti un po' da tutte le parti del mondo. Vogliamo ricordare il nome di qualche ospite che avremo in questa manifestazione? In questa manifestazione ci sarà il concerto d'apertura, che sarà tenuto dal maestro Antonio Turriot. Pochi minuti fa abbiamo assistito ad una esibizione, alla dimostrazione di un film del maestro di Turriot sulla figura di Leopold Godowski, che è un pianista del Novecento, dimenticato, ma del quale lui sta riscoprendo e ha riscoperto l'opera. E stasera si esibirà in un concerto dal vivo con musiche basate sia su questo repertorio che su altri repertori un po' più tradizionali, altri addirittura più innovativi ancora. Nei prossimi giorni, poiché il festival quest'anno si snoda non solo su Querceto, ma su altri due posti come Volterra e Mazzolla troveremo un trio di musicisti giovani, polacchi, provenienti da Varsavia. Sono dei musicisti fantastici, favolosi, che pur giovani hanno un approccio con la musica estremamente professionale e porteranno con loro un repertorio molto interessante, soprattutto incentrato sulla musica moderna e contemporanea. E poi ancora a Mazzolla avremo il trio Rospigliosi, che è invece un trio di toscani e invece ritorneremo a Querceto il 28 per un nuovo duo di polacchi, marito e moglie, flautista e pianista e chiuderemo in bellezza, spero e credo, conoscendo i musicisti in questione, il primo agosto con un duo percussioni e pianoforte di un altro musicista toscano molto conosciuto in Toscana, il percussionista Federico Poli, che ci delizierà con della musica, un repertorio molto molto inusuale per un posto del genere, ma anche per tante altre stagioni concertistiche. Quindi abbiamo un programma molto ricco in quest'anno? Molto ricco e molto vario. Normalmente l'idea iniziale di questo festival, uno dei tratti somatici più importanti di questo festival, era proprio quello di cercare di portare all'attenzione del pubblico non solo e sempre la tradizione musicale occidentale, quella ormai conosciuta, trita e ritrita, ma tutto ciò che potesse avere intanto un sapore di novità e che desse al pubblico quella consapevolezza in più, quella curiosità in più, che lo stimola in più a frequentare i concerti di musica dal vivo, che ormai, salvo che per i grandi eventi legati alla musica più commerciale, hanno ovviamente sempre dei grandi problemi di affluenza. Invece in questo modo, proprio incuriosendo il pubblico, attraverso anche delle prime esecuzioni, in passato abbiamo avuto prime esecuzioni di opere contemporanee con i compositori presenti in sala, quindi eventi più unici che rari normalmente in Italia, poi in un posto come Querceto, che sembra essere, diciamo, nella provincia toscana in realtà ha portato Querceto a essere un posto centrale nell'attenzione culturale del paesaggio toscano. Benissimo, quindi invitiamo tutti a venire all'International Piano Festival. Speriamo, e speriamo siano tutti numerosi e contenti di essere con noi qui. Noi condividiamo la forte emozione con il nostro pubblico, la forte emozione di partecipare a queste cose, di ricevere delle forti emozioni proprio da queste esibizioni dal vivo. Noi condividiamo il nostro pubblico, la forte emozione di partecipare a queste esibizioni dal vivo. Noi condividiamo il nostro pubblico, la forte emozione di partecipare a queste esibizioni dal vivo. Noi condividiamo il nostro pubblico, la forte emozione di partecipare a queste esibizioni dal vivo. Noi condividiamo il nostro pubblico, la forte emozione di partecipare a queste esibizioni dal vivo. Noi condividiamo il nostro pubblico, la forte emozione di partecipare a queste esibizioni dal vivo. Noi condividiamo il nostro pubblico, la forte emozione di partecipare a queste esibizioni dal vivo. Noi condividiamo il nostro pubblico, la forte emozione di partecipare a queste esibizioni dal vivo. Grazie. 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 Grazie.